Vado Vadoens coolaste, Fredrik Lindström! Det är den enda djurart som i huvud taget har såna här inspirationsdagar, det är den enda kläckte det är. Jag tänkte nu kommer jag på mig med en man med en jättelång rundstad och körde röven. Ja, jag tänkte nu kommer jag på mig med en jättelång, det är den enda djurart som i huvud taget har sånt. perché sai che ovviamente qualsiasi branche o qualsiasi strumenti hai solo una possibilità di fare un'immagine un'immagine se sei successo oggi non è proprio quello che hai fatto i giovani è quello che hai fatto 5 anni fa è un'altro che molti andano come un karaoke si parlare con il powerpoint ma non con gli che chiede Hans Rosling e ancora ci sono 3 miliardi di più ma dove sono divano? ci sono gli giusti un'aspirationssiggio è stata un'aspirationssiggio è scato che cosa sa che sei qui davvero troppo capire in un'edata siamo ripeti di tutti i condività oggi sono siamo stati molti nostri nuovi ide la stagione come si preferono in grupp privata e tutto tutto ci siamo accennati abbiamo pienso spettare e che si tratta di sport e organizzazioni e organizzazioni. Quando si tratta di un'epidio di un'epidio, e anche se che Hans Rosling ha parlato molto di più, quando si tratta di un'epidio e mostrano i bambini, è stato molto bravo. È stato un'ottico giorno, pieno di conoscenza, inspiration, La visione, la visione, la visione, la grucia. Alla ingredienti satt solo.